I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Mazzara del Vallo hanno recuperato, dopo un breve inseguimento, un'autovettura rubata a Campobello di Mazzara. La vittima aveva parcheggiato l'auto davanti la propria abitazione lasciando le chiavi all'interno in quanto doveva solo fermarsi un attimo. Approfittando della situazione uno straniero è salito a bordo del mezzo e si è dato alla fuga. Il proprietario però ha notato quanto stava accadendo e ha subito contattato il 112 denunciando il furto. La nota di ricerca è stata subito diramata alle pattuglie in circuito che in possesso dei dettagli forniti dal richiedente si sono messe sulle tracce del presunto autore del furto. L'auto è stata intercettata dai militari dell'arma mentre sfrecciava sulla statale 115 con direzione Mazzara del Vallo. Dopo aver fatto inversione di marcia e un breve inseguimento i carabinieri hanno recuperato l'autovettura abbandonata in mezzo alla carreggiata dal ladro che vedendo la gazzella a sirene spiegate a pochi metri ha lasciato il veicolo fuggendo a piedi tra le campagne. Il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario con i militari che sono già sulle tracce del presunto responsabile il quale verrà presto deferito alla procura della repubblica di Marsala.